Noi abbiamo un grande autore che è Reuzante, che è del Cinquecento, il primo che scriva teatro con una grandezza, un'intelligenza, eccetera, eccetera, e parla della storia, parla della storia del proprio tempo, parla dei fatti, parla del quotidiano, parla della cultura. Voi avete un altro che più o meno è dello stesso tempo, che è l'autore di Rabelais, e ho notato una cosa che non lo conoscete, non si realizza mai, è sotterrato, ed è la cultura del padrone che l'ha sotterrata, cioè la pittura aristocratica, la pittura, la cultura, il linguaggio, perché sarebbe da riscrivere prima di tutto, perché quello che è raccontato là è come in lingua straniera, tu devi tradurla in una lingua che sia tua. Io ho fatto così, cioè ho capito che non arrivavano le storie di Reuzante perché erano scritte in una lingua, in un andamento e una forma che ormai è morta. E adesso l'ho messo in scena, anche l'altro ieri, in Piazza del Duomo io ho letto un monologo di Reuzante e la gente è esplosa alla fine in un applauso incredibile, l'ha capito tutto, ma se tu non fai la traduzione, se tu non esci dagli schemi meccanici del tempo, tu non ti potrai mai riuscire a... Se tu non fai il museo, se lo lasci nel museo non... Eh sì, se tu non fai il museo, basta.